Le principali sfide che Amunsen ha affrontato durante la sua spedizione al Polo Sud sono state numerose e spesso estreme. Ecco alcune delle sfide più significative. Condizioni climatiche estreme l'Antartide è uno dei luoghi più freddi e inospitali sulla Terra. Le temperature possono scendere a livelli letali, con ventigelidi e tempeste di neve che mettono a dura prova l'equipaggiamento e la resistenza fisica degli esploratori. Quindi, navigazione e la mancanza di punti di riferimento e la vastità del paesaggio antartico rendevano la navigazione estremamente difficile. Amunsen e il suo gruppo dovevano fare affidamento su strumenti come la bussola e il sestante per orientarsi. Risorse limitate la spedizione di Amunsen si basava principalmente su slitte trainate da cani. Tuttavia, i cani richiedevano cibo e cure costanti, e la loro sopravvivenza era cruciale per il successo della spedizione. La gestione delle risorse alimentari e la salute dei cani erano sfide quotidiane. Competizione con la spedizione britannica di Scott, il capitano Robert Falcon Scott guidava una spedizione britannica contemporaneamente verso il Polo Sud. La corsa per raggiungere per primo il Polo Sud era una sfida diretta tra le due squadre. Amunsen doveva mantenere il segreto sulla sua destinazione effettiva per evitare che Scott lo seguisse. Salute fisica e mentale degli uomini, l'esplorazione polare richiedeva una resistenza fisica straordinaria. Amunsen e il suo gruppo hanno affrontato il freddo, la stanchezza, le ferite e il rischio di congelamento. Inoltre, la solitudine e l'isolamento potevano avere un impatto sulla salute mentale degli esploratori. In definitiva, Amunsen ha superato queste sfide grazie alla sua pianificazione meticolosa, alla determinazione e alla capacità di adattarsi alle circostanze mutevoli. La sua vittoria nella corsa al Polo Sud è stata un trionfo dell'ingegno umano e dell'audacia la spedizione di Amunsen. La corsa al Polo Sud nel dicembre del 1911, una spedizione guidata dall'esploratore norvegese Roald Amunsen raggiunse per la prima volta il Polo Sud. Questo storico evento segnò una vittoria per Amunsen, che riuscì a battere sul tempo gli avversari inglesi guidati dal capitano Robert Falcon Scott Amunsen era un uomo, ambizioso ma estremamente metodico. Aveva già fatto parlare di 6-5 anni prima, quando fu il primo a navigare dall'Atlantico al Pacifico attraverso il leggendario passaggio a nord-ovest. Ora, si trovava dall'altra parte del globo, nell'Antartide, per tentare l'impresa più prestigiosa del mondo dell'esplorazione, raggiungere il Polo Sud. La sua decisione di dirigere la spedizione verso Sud fu in parte frutto del caso. Inizialmente, stava progettando di completare l'esplorazione dell'Oceano Artico e di attraversare il Polo Nord. Tuttavia, ricevette la notizia, poi messa in dubbio, che Robert Piri aveva già messo piede al Polo Nord. A quel punto, Amunsen decise di rivolgere la sua attenzione verso Sud calcolò che, se avesse raggiunto per primo il Polo Sud, si sarebbe assicurato fama e finanziamenti per le future esplorazioni. La corsa al Polo Sud non fu priva di sfide. La spedizione britannica guidata da Scott era pronta a tentare l'impresa contemporaneamente. Amunsen partì prima che arrivasse la primavera polare e il tempo fosse sopportabile. Questa decisione causò la perdita di cani preziosi e il congelamento dei piedi dei suoi uomini, che avrebbero impiegato un mese per guarire. Mentre si affrettavano a tornare alla base, Framheim, Amunsen abbandonò due membri della spedizione, che raggiunsero con difficoltà il campo un giorno dopo di lui nonostante le difficoltà. Amunsen e il suo gruppo riuscirono a raggiungere il Polo Sud il 14 dicembre 1911. Cinque uomini in slitta e 52 cani superarono indenni la banchina di Ross e il ghiacciaio Eiberg. La spedizione di Amunsen fu un successo assoluto, dimostrando la sua competenza e determinazione in conclusione. La spedizione di Amunsen al Polo Sud rimane uno dei momenti più significativi nella storia dell'esplorazione polare, e il suo nome è legato per sempre a questa impresa epica. Grazie a tutti.